Ciao a tutti i Caribious Walks, ben ritrovati, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi voglio parlarvi, voglio raccontarvi la storia di Woodstock. Attenzione, dal punto di vista bassistico ovviamente, cosa vuol dire? Che la storia di Woodstock, soprattutto dopo l'anno scorso in cui si è celebrato il cinquantesimo anniversario, è stata raccontata, riraccontata in tutte le salse, potrete trovare qualunque tipo di materiale, qualunque tipo di documento. Il giorno d'oggi qualcuno l'ho anche riutilizzato io, adesso ci arriviamo. Io voglio dedicarmi invece, come al solito, un po' ai bassisti, perché se è noto quali sono i bassisti principali, quali sono le band principali che hanno suonato Woodstock, mi riferisco ovviamente a Janis Joplin, piuttosto che Jimi Hendrix, piuttosto che i Creedence, piuttosto che gli Wu, esibizioni di cui tutti magari hanno negli occhi delle parti, perché comunque qualcosa è arrivato fortunatamente fino ai giorni nostri, ma un elenco completo mi sono accorto che effettivamente non c'era. Quindi sono andato a cercare, tra i diversi documenti che si trovano in rete, quella che è stata tutta la scaletta, tutta la line-up, dal primo all'ultimo giorno, per andare a spulciare se tra gli artisti che si sono esibiti ci fosse qualche bassista di cui magari abbiamo perso le tracce. Effettivamente è un po' così e adesso con calma ci arriviamo. Allora, ovviamente senza rifare l'ennesimo video sulla storia di Woodstock, però riassumiamo brevemente cosa è successo. Magari per i neofiti, per chi ancora non dovesse conoscere cosa è stato quel particolare concerto relativamente alla storia della musica e non solo. Siamo nel 1969, esattamente il 15 agosto, alle ore 17.07 in punto comincia questa tre giorni di pace, musica e amore, come è stata definita. Il concerto fu organizzato da Michael Lang e Artie Kornfeld, due imprenditori, impresari diciamo, che avevano quest'idea, adesso senza farvela troppo lunga, comunque ci fu più di un anno di trattative per avere delle location, non so, l'organizzazione ovviamente come tutte le organizzazioni di grossi festival ha richiesto il suo tempo. Alla fine si è arrivati ad individuare questo campo messo a disposizione da un contadino nella località di Bethel, nello stato di New York. Un campo molto grande, come si può notare dalle numerevoli foto e video dell'epoca, e in questo campo, diciamo, fu organizzato questo festival, che all'inizio non doveva essere una cosa così pretenziosa. Non è nato per entrare nella storia, lo slogan del festival recitava letteralmente un Aquarian Exposition, quindi doveva essere un evento che prevedeva al massimo la partecipazione di 50.000 persone, secondo le previsioni degli organizzatori, che poi in realtà subito dopo furono smentite, perché in prevendita furono venduti subito 160.000 biglietti, e poi, come tutti sappiamo, in realtà arriva ancora molta più gente, tanto è vero che l'organizzazione stessa a un certo punto decise di non far più pagare l'ingresso e lasciare entrata libera. Entrata libera che poi le persone si ricavarono anche per conto loro, perché tagliarono recensioni, transenne, eccetera. Si arrivò appunto ad avere stimati, ancora oggi dicono che fossero tra i 400.000 e i 500.000, e in realtà poi, se si calcolano tutte le automobili che c'erano intorno, tutte le persone che cercarono di arrivare, si parla di più di 2 milioni di persone che quantomeno provarono ad arrivare. Infatti poi sappiamo che ci furono dei ritardi anche per l'arrivo degli artisti, qualcuno dovette arrivare in elicottero perché non si riusciva assolutamente, qualcuno non arrivò per tempo per via del traffico. Insomma, questo è bene o male tutto quello che ancora oggi ci ricordiamo, o per chi come me non c'era magari, ha saputo, ha ereditato di quello che era la storia di Woodstock. Tra l'altro, un'altra cosa notevole, prima di parlare di quelli che c'erano, vorrei parlarvi di quelli che non c'erano, perché è risaputo che ci furono degli artisti esclusi o auto-esclusi per diversi motivi, alcuni veramente nomi di eccezione, nomi di assoluto rilievo. Per esempio potrei iniziare facendovi il nome di Jeff Beck, col suo group dei tempi, in cui suonava anche Ron Wood, poi The Rolling Stones, per esempio, che non suonò semplicemente perché la band si sciolse una settimana prima. Pure Johnny Mitchell, Johnny Mitchell il cui produttore decise di non farla suonare perché non voleva portarla a suonare in un campo davanti a 500 persone, questa era l'idea che c'era di Woodstock al momento dell'organizzazione dell'evento. Ovviamente tra gli esclusi più famosi, chi ci furono? I Beatles, per quale motivo non suonarono? Perché John Lennon aveva posto come condizione il fatto che per la partecipazione dei Beatles avrebbe dovuto partecipare anche Yoko Ono con la sua band. Gli organizzatori non vollero far partecipare Yoko Ono perché la sua band non era ritenuta così conosciuta e quindi non se ne fece niente. I Rolling Stones di contro non parteciparono perché Mick Jagger era alle prese con le riprese di un film mentre che il Richards aspettava un figlio, aspettava il primo figlio e quindi non volle prendere impegni. Stesso discorso valeva anche per Robin Trower dei Procolarum, stesso motivo, stava per narcergli il figlio, non volle far partecipare la sua band. I Led Zeppelin, per esempio, non parteciparono invece per volere del loro produttore, del loro manager Peter Grant. In realtà c'era anche un certo entusiasmo, la band voleva anche partecipare, pare a questo festival. Peter Grant non voleva perché secondo lui sarebbe stata l'ennesima band a un festival così mischiato nel nulla insieme a tantissime altre band. Era una cosa che a suo modo di vedere non avrebbe giovato, diciamo così, all'immagine delle Zeppelin. I Jet Total, per esempio, non parteciparono perché Jan Anderson era assolutamente contrario alla cultura hippie, non voleva saperne, ha avuto anche diversi problemi con musicisti che facevano uso di sostanze, era assolutamente contrario a qualunque cosa di questo tipo e quindi non voleva portare la band in un evento che sicuramente sarebbe andato come si aspettava. E poi ovviamente dobbiamo citare i Doors che non parteciparono perché proprio in quel periodo, diciamo, Jim Morrison aveva appena dato il peggio di sé, la band stava passando diversi problemi dal punto di vista legale, legati alle oscenità di Jim Morrison negli ultimi concerti e quindi decisero di sospendere qualunque tipo di concerto e quindi non andarono neanche a Woodstock. Ma passiamo allora invece a chi ha suonato. Quindi vediamo un po' tutta la line-up del festival dal primo all'ultimo giorno e cerchiamo di scorrere, mentre scorrono anche le immagini, per capire chi erano i bassisti. Allora il festival fu aperto, come dicevo, alle 17.07 da Richie Evans. In realtà avevano dovuto aprire gli Sweetwater che però furono tra le varie vittime del traffico. Quindi si ricorda anche un evento, vero? Il fatto che continuavano a chiedergli bis, continuavano a dirgli di continuare proprio perché stavano tardando gli altri artisti. E lui a un certo punto concluse con uno spiritual improvvisato in cui continuava a ripetere questa parola Freedom, Freedom, Freedom. Ci sono tantissime immagini che mostrano questo evento. Quindi questa è la particolarità, diciamo, della sua esibizione. Lui aprì il festival il venerdì alle 5, più o meno. Esibizione che durò poco meno di un'ora per un totale di 11 brani, tra cui appunto questo spiritual improvvisato. Subito dopo di lui uscì Suomi Saccinanda, santone, che fece un discorso di un quarto d'ora circa, ecco per intrattenere un po' il pubblico, dare credo una specie di benedizione, ecco sapete quelle cose molto hippie di quei tempi. E servì solo per intermezzo, perché poi finalmente arrivarono gli Sweetwater che si esibirono. Sweetwater, giusto per farvi capire se non li avete mai sentite, assomigliano un po', ricordano un po' i Jefferson Airplane, quindi hanno un po' quel sound tipico di quei tempi. Suonarono anche loro una decina, dieci, forse undici brani. Avevano un bassista, che è questo signore, che si chiama Fred Herrera. Di Fred Herrera purtroppo non si hanno molte notizie. Ho fatto una ricerca in rete per capire se avesse fatto altro. Boh, il suo nome è associato assolutamente a questa band, e il nome di questa band è associato assolutamente a Woodstock 69. Quindi non si hanno molte notizie. Intorno alle 19.15 è il turno di Bert Sommer, artista folk. Diciamo che il primo giorno era incentrato molto sugli artisti folk, quindi molta musica in acustico, pochi bassisti effettivamente il primo giorno. Bert Sommer è un artista morto, comunque se non sbaglio intorno agli anni 90, comunque già un po' di tempo, e anche di lui non si sono avute molte altre notizie. Come del bassista che si esibì sul palco con lui quella sera, che era tale Charlie Bilello. Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito, io personalmente non l'avevo mai sentito, ho fatto delle ricerche e non si è trovato molto. Continuando, l'esibizione successiva è intorno alle 21.00, quindi abbiamo cominciato alle 17.00, alle 21.00 si sono già esibiti tre artisti, più il discorso del Santone. Alle ore 21.00 sale sul palco Tim Hardin. Tim Hardin, diciamo, al merito di aver scritto un brano che è stato reso celebre poi anche da altri artisti, che è Ifebole Carpenter. Se non lo conoscete, ascoltatevi le versioni, per esempio, di Johnny Cash, piuttosto che di Robert Plant, giusto per dirne un paio. Comunque un brano che è diventato poi in seguito parecchio celebre, non come lui, che effettivamente, diciamo, è stato un po' dimenticato, anche perché è morto per overdose nell'80, nei primi anni 80. Si esibì a Woodstock con un bassista, anzi con un contrabassista, che è Glenn Moore, che è ancora oggi attivo in ambito jazzistico. Quindi su di lui si è trovato qualcosa, è un jazzista, fondamentalmente un contrabassista jazz, e pensate suonò con Tim Hardin sul palco di Woodstock nel 69. Quindi già questo, diciamo, potrebbe essere un primo nome interessante, notevole da andare a sentire. Dopo Tim Hardin, due esibizioni ancora senza bassisti. Stiamo parlando di Ravi Shankar, su cui non dico niente, conoscete il personaggio, sapete di chi stiamo parlando. Successivamente ci fu tale Melanie, una cantautrice, che si esibì in acustico, quindi anche lei senza nessun bassista. Poco prima di mezzanotte sale sul palco Arlo Guthrie è il figlio di Woody Guthrie o Guthrie, non so se qualcuno se lo ricorda, comunque un cantautore di protesta americano, eccetera eccetera, insomma comunque diciamo figlio d'arte, si esibì sul palco, suonando per una mezz'ora circa. Il bassista che suonò con lui era anche egli un contrabassista di stampo jazzistico, Bob Harkin, new yorkese, ancora in attività, e fratello del celebre regista hollywoodiano Alan Harkin. L'esibizione di Guthrie finisce intorno alle 12 e mezza, all'una esce John Byetz, che chiude la prima giornata con un concerto della durata più o meno di un'ora e mezza, in trio lei e due altri chitarristi, comunque assolutamente ancora folk e acustica, quindi i bassisti della prima giornata finiscono qui. La seconda giornata, il venerdì 16 agosto, comincia intorno a mezzogiorno, tra le 12 e le 13, non ancora, anche qua non è molto chiaro, alcuni si ti danno un orario, altri ne danno un altro. Comunque la prima band che pare si fosse esibita il secondo giorno, furono questi Quill, Quill, scritto Q-U-I-L-L, una band che realizzò solo un album, prima di partecipare a Woodstock, il bassista si chiamava John Cale, non ho trovato notizie né della band, pochissime della band, e nessuno assolutamente del bassista di questa band. Subito dopo si esibì, pare, Country Joe MacDonald, che era in scaletta per la terza giornata, ma dato che era lì dall'inizio uno dei pochi che riuscì a arrivare per tempo, lo fecero esibire. Allora alcuni siti riportano che Country Joe MacDonald si esibì da solo, in acustico, il primo giorno per lo stesso motivo. Altri riportano che si esibì il secondo giorno, intorno a quest'ora, proprio perché anche il secondo giorno alcuni artisti non riuscirono ad arrivare per tempo. Quindi, o uno o nell'altro giorno, a una certa ora, tac, esce lui con la sua chitarra e si esibisce in qualche brano, giusto per ridare fiato e far prendere tempo agli organizzatori, gli artisti che ancora non erano arrivati. In ogni modo, intorno alle 14 del secondo giorno, avviene uno degli eventi più memorabili, ovvero l'esibizione di Sant'Ana. Sant'Ana che ai tempi non era assolutamente ancora così conosciuto, aveva suonato in qualche locale di San Francisco, ma non aveva ancora sicuramente quella fama di cui godrà di lì a poco e non era quello che è adesso, ma diciamo che la sua esibizione rimase comunque nella storia. In quel momento particolare, in quel contesto, risultò veramente uno dei concerti più efficaci. Al basso, con Carlos Sant'Ana, c'era quello che poi è stato il suo bassista per tutti gli anni 70, ovvero David Brown. Quindi su David Brown sicuramente ci sono tantissime notizie, lo potete anche ascoltare sui dischi di Sant'Ana, ovviamente di quel periodo, David Brown che poi ci lasciò nel 2000. Andando avanti, è la volta di un altro artista in acustico, John Sebastian, che tra l'altro parteciperà poi l'anno scorso per il festival che hanno fatto per il 50esimo anniversario, era sul palco, era tra quelli storici che sono riusciti a suonare a questa rimpatriata, ecco chiamiamola così perché in un altro modo non si può definire secondo me, e comunque ecco, lui è uno di quelli che è durato. Subito dopo salì sul palco la Keith Hartley Band, allora Keith Hartley chi era? Innanzitutto questa è la prima band inglese ad esibirsi sul palco di Woodstock, il secondo giorno. Keith Hartley era un batterista che suonava già con John Mayall. Suonarono 5-6 brani, anche la fine fecero anche un medley pare, ma fu l'unica band che non fu mai inserita in nessuna delle riprese, in nessun documentario, nel famoso film. Purtroppo per loro non ci sono documenti ecco, però si è esibita. Allora chi era il bassista? Il bassista era Gary Tane, bassista neozelandese se non ricordo male, o australiano neozelandese, comunque di quella parte del mondo, che diventerà poi, grazie a questa esibizione, il bassista degli Uriah Eap, per un certo periodo, per il primo periodo, fin quando poi non morirà per droga, anche lui per overdose purtroppo, ma comunque diciamo ha avuto comunque una sua carriera, è arrivato fino a suonare con gli Uriah Eap, partendo da questo festival di Woodstock. Subito dopo, un'altra band inglese, un'altra band della Gran Bretagna, The Incredible String Band, la bassista, Rose Simpson, era in realtà una polistrumentista, una band molto particolare, se trovate qualcosa, andate a sentirvelo, giusto per curiosità, perché comunque era una band assolutamente piacevole. La bassista, tutt'oggi, vive, fa la turnista, insegna, insomma, solita vita da musicisti, credo, senza essere più sotto i riflettori, però ha partecipato a Woodstock che continua a vivere di musica in Inghilterra al giorno d'oggi. Si avvicina la sera e cominciano ad arrivare quei nomi che tutti conosciamo, quei nomi che hanno fatto realmente la storia di Woodstock, ovvero alle 19.30, per esempio, salgono sul palco il Kenned Heat, noti principalmente per le loro reinterpretazioni, diciamo così, dei classici del blues. È una band che tra l'altro, nonostante diversi cambi di formazione, esiste ancora oggi, che era bassista, era Larry Taylor, che prima di suonare con loro in realtà aveva fatto il turnista, aveva suonato per esempio con Jerry Lewis, per esempio, dopo i Kenned Heat, ad esempio, suonò anche con John Mayall, con Tom Waits, e insomma è uno che ha suonato veramente parecchi e parecchi dischi. I Kenned Heat appunto con diversi cambi di formazione, ma esistono ancora oggi, anche loro se non sbaglio hanno partecipato alla reunion dello scorso anno. Alle 21 salgono sul palco i Mantine, altra rock band americana. Questa è una di quelle band che spesso vengono associate al metal, pare che fossero proprio precursori, diciamo, cominciavano a suonare un rock un po' più pesante. Tra i loro successi ci sono brani come Mississippi Queen e Long Red, se ascoltate sicuramente le avrete sentite qualche volta. Il bassista era Felix Pappalardi, è stato soprattutto un grande produttore, ha collaborato per dire alla realizzazione di Disraeli Gears Day Cream. La sua storia è particolare perché morì nell'83, pensate, ucciso dalla moglie, che poi andò in galera, uscì e morì anche lei. Insomma, comunque la storia è abbastanza triste per questo povero bassista Felix Pappalardi che si esibì sul palco di Woodstock. Arriviamo alla sera, arriviamo alle 10 e mezza di sera e salgono sul palco i Grateful Dead. Altra band storica che mischiava un po' di rock, blues, folk, psichedelia. Nel 2015 hanno tenuto un concerto per il loro cinquantesimo anniversario. A Woodstock suonarono solo cinque brani, tenete presente che i brani di quel tipo erano parecchio lunghi. Il bassista era fondamentalmente anche il fondatore della band. L'unico che è rimasto nella band sempre è Phil Lash. Considerato tra l'altro un grande innovatore del basso rock. Quindi qua stiamo parlando di un bassista non proprio sconosciuto. Quindi se conoscete la band sicuramente sapete già chi è Phil Lash. Ed era particolare, proprio considerato particolare in quei tempi perché non era il classico bassista che si limitava a suonare quelle classiche parti di basso rock ostinati. Diciamo che ci metteva della fantasia, creava delle linee di basso veramente notevoli, veramente interessanti. Grazie a questo suo modo di suonare diciamo che è considerato uno di quelli che hanno contribuito principalmente a creare quello che in quell'epoca veniva chiamato il sound di San Francisco molto ricorrente in quegli anni e soprattutto anche tra le diverse band che si sono esibite a Woodstock 69. Bene, si comincia a fare veramente veramente tardi. Passa la mezzanotte mancano ancora diverse band. Gli hook avrebbero dovuto essere gli headliner della sera ancora non si fanno vedere siamo parecchio lontani della fine verso le 12 e mezza quindi mezzanotte e mezza pensate salgono sul palco i Creedence Clearwater Revival Band Story che ovviamente non dobbiamo neanche star qui a dire chi sono il bassista Stu Cook e quella dei Creedence è considerata probabilmente la migliore o sicuramente una delle migliori esibizioni di tutto il festival. Di Stu Cook voglio solo raccontarvi questa curiosità nel 93 fu chiamato da Rolling Stones a fare un provino dopo che Bill Wyman se ne andò in realtà poi per diversi motivi che non sono neanche stati raccontati nei dettagli non fu scelto sapete poi come è andata adesso c'è Derrick Jones come turnista eccetera eccetera però stiamo parlando di Stu Cook bassista di una delle band più importanti della storia del rock ovvero i Creedence che finirono la loro esibizione intorno all'1.20 suonarono meno e furono anche particolarmente scontenti di questa cosa il fatto che loro suonassero meno l'attribuirono al fatto che invece i Grateful Dead si presero un sacco di tempo la loro esibizione fu lunghissima e questo ritardò l'esibizione dei Creedence che quindi dovessero suonare quando molta della gente che era lì preferì andare a dormire probabilmente quindi arriviamo comunque intorno all'1.30 di notte ovviamente tenete presente che poi ci sono stati dei cambi palco durante le giornate come sapete ha piovuto fanghiglia problemi tecnici ritardi e per diversi motivi e alle 2 del mattino quindi siamo sempre nella seconda serata ma sono già le 2 di notte esce e sale sul palco Janis Joplin di cui non possiamo dire niente insomma credo che tutti conosciate Janis Joplin e che tutti sappiate quello che ha fatto il bassista di Janis Joplin è Brad Campbell anche su lui in realtà non ci sono tantissime informazioni in rete però voglio dire si sa chi è il bassista di Janis Joplin quindi attenzione perché Janis Joplin finisce alle 3 del mattino alle 3 e mezza salgono sul palco Sly and Family Stone mille vicissitudini pare che ci fossero anche dei problemi dal punto di vista economico non dovevano esibirsi poi sì poi no insomma alle 5 del mattino salgono sul palco per un'esibizione memorabile in cui ripropongono tutto il loro album il loro concept Tommy l'ultimo brano pare che lo suonassero proprio mentre stava salendo l'alba insomma durante l'alba loro suonavano l'ultimo pezzo della scaletta ovviamente stiamo parlando degli U stiamo parlando di John and Twystal quindi non stiamo qua a dire cose inutili e tra l'altro sto preparando un video anche su di lui quindi ne parleremo magari meglio in quel preciso momento voi dite se sono fatte le 6 del mattino gli U hanno suonato tutto Tommy cosa volete di più no non è finita perché mancavano ancora i Jefferson Airplane che salirono sul palco pensate alle 8 del mattino ecco loro dovevano essere insieme agli Hoolie Headliner del festival erano la band più famosa dell'area di San Francisco erano veramente degli hippie pensate che vivevano insieme tutta la band come una famiglia suonarono alle 8 del mattino ricordatevi questa cosa allora Jack Cassidy al bassista ovviamente lo conosciamo anche perché probabilmente lo sapete la Epifone gli ha dedicato un basso un signature tra l'altro una cosa molto interessante di Cassidy è che lui ha sempre sostenuto che il marchio di fabbrica di un bassista deve essere il suono non la tecnica ed è uno che effettivamente se ci fate caso ha un suono inequivocabile comunque dà molta importanza a questo aspetto e qui si chiude il secondo giorno la domenica quindi il terzo e ultimo giorno alle 14 sale sul palco la Grease Band che è la band che accompagnerà Joe Cocker quindi si esibirà in qualche brano senza di lui poi salirà sul palco Joe Cocker per un'altra di quelle esibizioni rimaste nella storia soprattutto per il fatto che Joe Cocker presentò al pubblico quel brano che era la cover dei Beatles with a little help from my friends che nella sua versione ha fatto veramente storia ci sono anche ovviamente in rete tantissimi video le riprese originali di Woodstock in cui si esibisce in questo brano insomma se l'avete visto sapete di cosa stiamo parlando chi era il bassista di Joe Cocker era Alan Spanner Alan Spanner è un bassista che aveva suonato davvero in tantissime situazioni oltre a Joe Cocker una delle più interessanti che vi invito ad andare a ascoltare è il disco della colonna sonora del Jesus Christ Superstar quello originale del 70 andate a sentirlo perché ci sono delle linee di basso veramente pazzesche su quel disco ed erano suonate da lui in seguito suono anche con Roxy Music Kokomo con Coverdale anche suo figlio Henry Spanner è un batterista suona con i Fields ecco durante o verso la fine il concerto di Joe Cocker come tutti sanno arrivò il diluvio arrivò quel momento di panico generale acqua con certo sospeso insomma fu un bel un bel pomeriggio diciamo che terminò solo intorno alle 18 e 30 quando sul palco si ripresentò Country Joe Mc Donald questa volta con la sua band con i The Fish il bassista di Country Joe and The Fish era Doug Metzner di cui purtroppo non si hanno molte notizie l'unica cosa che è risaputa è che quando suonò Woodstock era appena rientrato nella band può esserne uscito per un periodo però non si hanno molte notizie poi di quello che fece in seguito arriviamo la sera intorno alle 20 20 e 15 salgono sul palco i Ten Years Up fecero solo sei brani pensate e suonarono comunque per un'ora anche loro tra l'altro un brano di quelli più famosi che hanno fatto secondo me è stato Spoonful è un classico del blues il bassista si chiama Leo Lions è un classe 1943 ed è ancora in attività quindi potete trovarlo ancora oggi su dischi e collaborazioni varie con artisti alle 22 è la volta della The Band The Band insomma dai sono abbastanza conosciuti basta pensare che il loro brano più famoso The Wait è stato usato come colonna sonora di Easy Rider tra l'altro siamo proprio in quel periodo ovviamente l'anno in cui uscì il film era proprio quello quindi salirono a Woodstock suonarono questo brano riconoscibilissimo conosciuto cantato da tutti eccetera che era il bassista della The Band era Rick Danko Rick Danko purtroppo ci ha lasciato nel 99 arriviamo alla sera tardi è mezzanotte orario in cui secondo l'organizzazione avrebbe dovuto esibirsi Jimi Hendrix siamo assolutamente in ritardo Hendrix arriverà parecchio tempo dopo però a mezzanotte sale un altro chitarrista celebre di tempi che era Johnny Winter con il suo blues e con un'altra esibizione di quelle memorabili memorabili anche per noi bassisti perché qui si c'è un altro bassista che tutti conosciamo che è Tommy Shannon che poi ha fatto una carriera intera con Steve Ray Vogan di Tommy Shannon anche qui possiamo non dire niente tanto sappiamo già tutto ed è un altro di quei bassisti di cui mi sono ripromesso di preparare un video quindi arriverà anche quello magari con la prossima stagione quindi passa la mezzanotte intorno all'uno e mezza salgono sul palco Blood, Sweat and Tears il cui bassista è Jim Filder bassista texano che è ancora oggi in attività un altro turnista che continua a lavorare a collaborare con diversi artisti l'esibizione dei Blood, Sweat and Tears finisce intorno alle due e mezza di notte alle tre del mattino è l'ora è la volta di Crosby, Steel, Nash and Young con Neil Young che nella prima parte del concerto quella acustica poi fecero una seconda parte elettrica non sapeva i pezzi fondamentalmente suonava con loro da poco infatti ci sono anche delle riprese che mostrano come Neil Young ogni tanto mollava la chitarra guardava gli altri comunque fecero due parti di concerto appunto una acustica e poi una seconda parte del concerto in elettrico al basso con Crosby, Steel, Nash and Young abbiamo Greg Reeves che era il bassista che suonò sul secondo disco di questa formazione bassista ma anche produttore ha fatto poi anche altri altri dischi ha lavorato insomma parecchio quindi un altro bassista assolutamente in attività e che ha continuato la sua attività artistica dopo Woodstock ci avviamo alla fine siamo alle 6 del mattino chi sale sul palco alle 6 del mattino vi direte voi Paul Butterfield Blues Band quindi un'altra band blues questa volta dal sound più tipicamente di Chicago suonarono sette brani chi è il bassista di Paul Butterfield Blues Band è Rod Hicks che era niente po' di meno che il bassista di Rita Franklin dopo aver suonato con la Paul Butterfield Blues Band torna a Detroit sua città natale diciamo e ricomincia a lavorare nella scena jazz muore nel 2013 sette e mezza del mattino penserete voi ci siamo dovrà finire questo concerto chissà cosa pensava chi era lì ad assistere a questa cosa ovviamente si stava svuotando questo è un particolare neanche troppo particolare perché ricordiamo che l'ultimo esibirsi fu Jimi Hendrix e la gente stava cominciando a defluire già da parecchio tempo perché comunque siamo a lunedì mattina sono le sette e mezza del lunedì mattina ha diciamo così mollato definitivamente la carriera musicale e finalmente chi chiude Woodstock lo sappiamo tutti Jimi Hendrix che suonerà per due ore lasciandoci un concerto memorabile storico a cui purtroppo assistette molta meno gente di quella che c'era all'inizio ovviamente perché comunque stiamo parlando delle nove del mattino nove del lunedì mattina e qui finisce questo concerto e qui finisce anche il mio elenco quindi avete visto che di bassisti ce ne sono stati veramente tanti alcuni più famosi alcuni veramente storici altri magari un po' meno che però se andate a ascoltarvi le registrazioni ma non solo la registrazione di Woodstock ma andate proprio a prendere questa set list e a conoscere le band che suonarono in quel festival perché comunque vale veramente la pena eravamo in un'epoca in cui di musica buona ce n'era veramente tanta e questo diciamo era semplicemente l'ennesimo evento in cui si poteva assistere si poteva sentire tantissimi artisti alcuni più emergenti alcuni più affermati e di musicisti bravi ce n'erano davvero tanti non tutti così conosciuti come magari quelli più di punta però è proprio lì che vi voglio è proprio lì che vorrei lo scopo di questo video insomma cercare di conoscere magari musicisti che di solito si trattano un po' meno bene sono passati 51 anni l'anno scorso 2019 correva il 50esimo anniversario ci sono state diverse manifestazioni tra cui appunto il fatto che l'arri fatto poco distante da Woodstock ma anche in Italia io ho partecipato io stesso con un tributo a Hendrix bellissima esperienza bellissimo repertorio ovviamente e voi siete appassionati di Woodstock sapevate tutti questi particolari conoscevate qualcuno di questi bassisti soprattutto di quelli magari un po' meno blasonati avete a casa qualche disco qualche registrazione di queste band che ho citato oggi fatemelo sapere lasciatelo nei commenti e anche per oggi direi che è tutto quindi vi saluto prima di salutarvi anzi vi ricordo sempre che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al mio canale venirmi a cercare sui diversi social iscrivervi al gruppo dei Bass Walkers su Facebook oppure su Instagram oppure su Twitter oppure su TikTok e come sempre dico se non volete cercarmi sui social potete sempre venire a cercarmi a casa mia anche per oggi è tutto vi saluto e vi rimando alla prossima ciao ciao